Bentornato. Salve, professoressa. Ho delle novità. Sono alla ricerca di un altro deposito, credo. Hanno costruito delle trivelle per essere più rapidi. È una vera disdetta. Questi depositi sono come il contenitore rotto che ho trovato nel castello di Rookwood? Sì. Non abbiamo altro tempo da perdere. Guarda la mappa. Fortunatamente, la prossima prova è vicina. È a Hogwarts. Come sai, ai miei tempi ero preside. Il mio ritratto è appeso in quello che fu il mio ufficio. Infatti, ero lì quando il professor Black è venuto a sapere del tuo arrivo. Mi chiedevo che tipo fossi. Un attimo. La prossima prova è nell'ufficio del preside. Sì. Speravo che, quando sarebbe stato il momento, l'occupante di quell'ufficio ci avrebbe dato aiuto. Sfortunatamente, l'attuale preside sembra interessato solo a se stesso. Dovrai accedere al suo ufficio mentre è assente. Capisco. Molto bene. Troverò il modo di entrare. Bene. Ci vedremo al mio ritratto, allora. A presto. Grazie. 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 Grazie.